Aumentano le adesioni di commercianti ed artigiani ed aumentano corrispondentemente le zone illuminate della città con una spesa del tutto sostenibile. Lo hanno ribadito a lodi i rappresentanti del Comune di Confartigianato Imprese di Confcommercio dell'Unione Artigiani e dell'Unione Commercianti, gli enti che hanno unito gli sforzi per assicurare anche quest'anno un centro storico accogliente per tutto il periodo natalizio ed oltre. Per la prima volta a memoria d'uomo abbiamo illuminato anche Piazza della Vittoria, ha osservato Mauro Parazzi di Confartigianato, arrivando ad abbellire anche il ponte sull'Adda. Abbiamo notato tra commercianti ed artigiani una buona propensione ad aderire alla proposta messa a punto quest'anno, hanno osservato dall'Unione Commercianti e dall'Unione Artigiani, ringraziando in particolare quanti si sono adoperati per la buona riuscita dell'iniziativa. Alcune luminarie potranno piacere o non piacere, ha concluso Mauro Sangalli dell'Unione Artigiani, ma va comunque riconosciuto che la città ha cambiato volto, soprattutto di pomeriggio e di sera. Posso già annunciare che all'ultimo dell'anno potremo assicurare lo spettacolo in piazza, ha dichiarato l'assessore Lorenzo Maggi, rimandando alla prossima settimana i dettagli dell'iniziativa.